Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale, basato su commenti personali in merito a notizie di pubblico dominio. Oggi, 27 aprile 2020, in apertura la notizia che tutti stavamo aspettando, sulle nostre libertà tanto decantate nella Costituzione italiana, ma decisamente mal rispettate. Desidero rammentare, insieme a chi mi ascolta, che le misure elaborate da questo nostro governo tecnico, con un Presidente del Consiglio dei Ministri non eletto, sono state prese senza consultare il Parlamento, un po' come nei regimi d'altri tempi. Ecco quindi cosa prevedono le nuove disposizioni in vigore dal 4 al 17 maggio, relative alla fase 2 annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, nel discorso di ieri in tarda serata. In primis, le scuole resteranno chiuse almeno fino alla ripresa del nuovo anno. Persiste il divieto di assembramenti, dunque. Il distanziamento sociale, ossia distanza fisica di almeno un metro tra le persone, elevato a due per le attività sportive, quindi la riapertura di alcuni settori, ma con prudenza e in condizioni di sicurezza. Dal 4 maggio saranno possibili le visite ai parenti, ma vietati gli spostamenti da una regione all'altra. All'interno della stessa regione si può far visita ai parenti, nel rispetto delle distanze di sicurezza e indossando mascherine. Occorre menzionare l'intenzione da parte di questo Governo di limitare il prezzo delle mascherine di tipo chirurgico a 50 centesimi di euro. Occorre menzionare l'intenzione da parte di questo Governo di limitare il prezzo delle mascherine di tipo chirurgico a 50 centesimi di euro. In pratica, all'interno delle regioni persistono gli spostamenti motivati da esigenze lavorative di necessità o di salute, sempre muniti di modulo di autocertificazione al seguito. Da sottolineare il lieto di spostamenti tra regioni diverse con mezzi pubblici o privati, ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, nei casi di assoluta urgenza o per motivi di salute da dichiarare sempre con autocertificazione. Dal 4 maggio è concessa l'attività sportiva anche non vicino a casa, ma rispettando la distanza di due metri dagli altri. Sono consentite anche le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti ma riconosciuti di interesse nazionale, sempre a porte chiuse. In pratica, gli atleti regionali e provinciali resteranno a guardare, che assurdità, ma di cosa stiamo parlando? Via libera anche al settore manifatturiero e delle costruzioni al commercio all'ingrosso, funzionale alle due categorie. Le aziende, sui luoghi di lavoro, dovranno rispettare protocolli di sicurezza che si possono predisporre già prima del 4 maggio. In sintesi, il commercio all'ingrosso riapre, ma quello al dettaglio ancora no. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio di abbigliamento, secondo chi ha ideato queste norme, dovrebbe andare ad acquistare le merci per poi tenere il negozio chiuso, con tutte le altre merci invendute a causa della chiusura totale delle attività non indispensabili. Ma che idea geniale! Far fronte ai flussi di lavoratori che ricominciano a muoversi, anche le aziende di trasporto devono predisporre condizioni per il rispetto delle norme di sicurezza e per tutti l'obbligo di indossare la mascherina. Speriamo che i soliti reticenti si rendano conto che la mascherina va indossata coprendo bocca e naso. Sempre e solo dal 4 maggio, via libera alla celebrazione delle cerimonie funebri, consentite ai soli congiunti con un massimo di 15 persone, possibilmente all'aperto, con mascherine e rispetto del distanziamento sociale. Mentre per la celebrazione dei riti religiosi permarrà ancora il divieto, quindi qui ce ne sarebbe da dire. Ma mi astengo dal commentare, solo per rispetto nei confronti dei defunti e dei loro cari. Libero, ma si fa per dire, l'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini, rispettando le distanze e con ingressi regolamentati. Dal 4 maggio, a bar e ristoranti, che già possono consegnare a domicilio, è consentita l'attività d'asporto. Ma sempre attenzione alle distanze di sicurezza. Si potrà ritirare il cibo uno alla volta e lo si dovrà consumare a casa o in ufficio, comunque non fuori dal locale, con un'attenzione particolare al divieto di assembramenti tra persone. Per la riapertura totale di bar e ristoranti dovremo attendere ancora tutto il mese di maggio, mentre i musei, le mostre e le biblioteche potrebbero invece riaprire il 18 maggio, sempre rispettando le distanze e con ingressi regolamentati. Sempre il 18 maggio potranno riaprire le attività riguardanti il commercio al dettaglio, etichettate dalle attuali norme in vigore, ancora oggi come non indispensabili. I centri estetici e i parrucchieri dovranno attendere il primo del mese di giugno per la riapertura delle attività, anche se non vi sono specifiche sulle modalità di contatto tra cliente e professionisti della cura del corpo. Tra le altre cose in elenco c'è il rinnovo dei congedi parentali e lo stop ai licenziamenti. Per il pacchetto lavoro che comprende tali misure, lo stanziamento complessivo dovrebbe essere di circa 24 miliardi di euro, ma per il momento sono semplicemente proclami, spot pubblicitari che lasciano il tempo che... Passiamo ora alle reazioni delle forze politiche di opposizione. Matteo Salvini, leader del partito Lega Salvini Premier, con una diretta social su Facebook, ribadisce che... Occorrono buonsenso e coraggio, bisogna fidarsi degli italiani e consentire loro di riprendere a vivere e lavorare. Riassumendo il concetto con la frase... Ripartire in sicurezza ma riaprire. Occorrono buonsenso e coraggio, bisogna affidarsi degli italiani e farli tornare a sperare, guadagnare, camminare, lavorare, sognare. Poi Salvini reannuncia per il primo maggio un piano sulla fase 2 vista dalla Lega e rilancia con mascherine ma pronte a manifestare. Se sarà necessario, perché non ci ascoltano o non vi ascoltano, ci faremo anche vedere e sentire, compostamente fuori dai social, con le buone maniere e educatamente, in una manifestazione per protestare contro le misure di lockdown decise dal governo. E' un mese e mezzo che ci tengono a discutere sul computer. Torniamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze. Rispettiamo limiti e regole. Qui c'è di mezzo il futuro e la libertà. E ancora... Lavoratori, imprenditori, artigiani, ristoratori, precari, commercianti, titolari di partita IVA e padri di famiglia non possono più aspettare, sottolinea il leader della Lega. Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in rete, per farci vedere e sentire. Oltre al virus, fame e mancanza di libertà, non lo possiamo permettere. Prima di tutto l'Italia e gli italiani. Perché questa mancanza di coraggio e di certezze? Perché aprire a giugno molte attività? Al governo qualcuno ha capito che molte non riapriranno se vanno avanti così? Questo governo ha capito che così porteranno i libri contabili in tribunale? Hanno creato 15 task force di super esperti per arrivare a chiusure fino a maggio. E forse al permesso di andare a trovare mamma e papà. Ma se abitano nella nostra città. E' previa autocertificazione. Possiamo dire basta? Dopo 47 giorni di reclusione, diciamo basta, fateci uscire e guadagnare e lavorare e fare la nostra vita. Certo mai come prima. In questo caso, seriamente, Salvini ha ragione da vendere. Anche Giorgia Meloni, leader del Partito Fratelli d'Italia, contesta con una diretta Facebook i proclami del Presidente Conte con le seguenti parole. Un'altra lunga e confusa conferenza stampa di Conte per dirci che, in sostanza, la fase 2 è quasi identica alla fase 1. Agli italiani che mi stanno scrivendo per capirci qualcosa di più, devo confessare che non ne so nulla. Conte decide evidentemente da solo della vita e della libertà di ciascuno di noi. Quando avremo i testi, cercheremo di capirci qualcosa di più. Intanto posso dire che non condivido minimamente la scelta di riaprire le attività produttive per settori e lasciare fermi, per molte altre settimane, interi comparti economici, esponendoli a una chiusura quasi certa. Il criterio doveva essere un altro. Chi può garantire le norme anticontaggio e la sicurezza dei lavoratori deve poter anche riaprire. E lo Stato deve sanificare a spese sue, mentre invece sappiamo che non è così. Si decide che qualcuno non deve avere speranza, aggiunge. Ma perché un ristorante o un bar che riesce a garantire le distanze e i dispositivi di sicurezza non può aprire come le altre attività? Questa nazione rischia la desertificazione del suo sistema produttivo. Perché un centro estetico che ha le cabine per l'autotrattamento non può aprire con gli altri? Perché un parrucchiere che può garantire il rapporto di uno a uno non può aprire con gli altri? Perché una palestra che garantisce l'allenamento singolo non può aprire con gli altri? E potrei fare molti altri esempi. Perché in fin dei conti dobbiamo massacrare intieri settori che rischiano di non aprire mai più? Per avere possibilità di fare un'altra conferenza stampa alle 8 di sera? Ma come non dare ragione a Giorgia Menoni? Il video ti è piaciuto? Lascia un like e iscriviti al mio canale. Attiva le notifiche facendo clic sulla campanella che trovi a destra, quella di fianco al nome della pagina. Poi, dal menu a tendina della campanella, dai clic sulla prima opzione in alto denominata TUT. Questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni volontarie. Per questo motivo il link Paypal è qua sotto in descrizione. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video.